Lasciamo il pirellone, andiamo a Bruxelles dove abbiamo sentito il segretario della Lega Lombardano che è eurodeputato Matteo Salvini su questioni leghiste e sulla Turchia in Europa. Matteo Salvini che cosa ne pensa delle proteste di piazza che stanno accadendo in Turchia? Con serietà la Turchia non è e non potrà essere Europa. 5.000 feriti, 500 arrestati, 3 morti. La Turchia per geografia, storia, economia, cultura, tradizioni, rispetto dei diritti delle donne, delle minoranze etniche, linguistiche e religiose non è Europa. Possiamo collaborare, possiamo aiutarci a vicenda, possiamo essere amici ma l'Europa è un'altra roba. La Turchia è un altro continente importante con cui dialogare però va verso l'islamizzazione e l'estremizzazione. Chi sta protestando in questi giorni sta protestando per una società libera, aperta, tollerante, democratica e viene represso. Quindi mi fanno pena e tristezza quegli italiani e quei politici italiani di destra e di sinistra che a fronte di queste violenze dicono, insistono nel voler fare entrare la Turchia in Europa. Mi sembra che sia la dimostrazione più evidente che siamo due mondi diversi.